La nostra casa, la scuola, le trasferte di lavoro, l'evento che aspettavamo da mesi. Semplice routine quotidiana, luoghi in cui vogliamo sentirci tranquilli e protetti. Il timore, l'inquietudine ci rendono diffidenti. Non dobbiamo rinunciare alla nostra libertà. Le aziende che operano nel settore della vigilanza privata raccolgono sfide difficili ogni giorno. Con grande professionalità e passione, impiegano più di 50.000 uomini e donne che lavorano per la sicurezza del privato cittadino. Cooperano in via sussidiaria con le forze dell'ordine per migliorare la sicurezza di tutto il paese. Una sicurezza a tutto campo, in ogni luogo della tua quotidianità. Sono sempre accanto a te, attenti al dettaglio, silenziose e vigili custodi di ciò che ti sta più a cuore. Si impegnano sul territorio in modo capillare, per difendere i tuoi beni, per trasportare i valori necessari ai commerci giornalieri, per contrastare il degrado urbano e per rendere la tua città un luogo sicuro in cui credere. Creano valore ogni giorno, operando in modo efficiente ed efficace. ASSIF dà voce a queste aziende, affinché possano lavorare con orgoglio per garantire la serenità di ogni cittadino e della collettività. Perché la sicurezza è un bene di inestimabile valore. ASSIF dà voce a queste aziende, affinché possano lavorare con un luogo sicuro in cui credere.